Ciao a tutti benvenuti in questo mio nuovo video io sono sempre Alessandro in arte Axel B oggi voglio mostrarvi come renderizzare una traccia con all'interno di questa traccia un plugin con attivo il sidechain per fare questo andremo ad utilizzare la funzione di Cubase Rendering in Place perché voglio mostrarvi questo? perché in realtà il Rendering in Place nel momento in cui troviamo appunto una traccia con un plugin all'interno ed attivo il sidechain questo sidechain viene bypassato ho provato anche a fare delle ricerche su internet scrivendo nei vari forum nei vari gruppi ma in realtà le soluzioni che mi avevano dato e che comunque già utilizzavo erano soluzioni un po' troppo macchinose soluzioni dove bisognava utilizzare l'export di Cubase andare a duplicare eventuali tracce per poi ricopiare all'interno la traccia renderizzata con export piuttosto che andare ad utilizzare dei routing particolari per poi ripristinare insomma un lavoro abbastanza macchinoso se teniamo conto di fare questo tipo di rendering su molte tracce dove all'interno di queste tracce troviamo diversi plugin con il sidechain diventa anche un po' complicato diventa un lavoro veramente lungo la soluzione che invece vi farò vedere oggi sarà una soluzione molto semplice quindi direi di andare direttamente in sessione così da farvi vedere come ho risolto io questa cosa ok siamo in Cubase ho creato questa sessione appositamente per questo tutorial allora la desiderata è quella di andare a renderizzare la traccia step sentiamo un attimo ok analizziamo un attimo le due le due tracce abbiamo una cassa una semplice cassa e abbiamo lo step che è stato fatto con il silent abbiamo anche un'automazione andiamo ad analizzare questa traccia step questa traccia step questa traccia step ha appunto un equalizzatore un saturatore abbiamo utilizzato magneto in realtà lo solo acceso è giusto per a titolo dimostrativo abbiamo un faser e il compressore il compressore che è quello che appunto ci permette di andare a fare quel movimento di pumping che ormai è stato abusato usato e stra abusato tra l'altro io utilizzo un altro sistema per fare quell'effetto lì ma non è l'argomento di oggi quindi andiamo a vedere il side chain che il segnale viene inviato appunto dalla cassa andando a fare appunto questo effetto togliamo via il solo perché sennò non funziona sentite che si muove no questa è la cassa che entro ok quindi la mia desiderata è proprio quella di voler renderizzare questa traccia quindi voler avere questo suono vado ad attivare il listener per voler ascoltare soltanto questa traccia ok quindi questo è il rendering finale che io voglio piccola premessa per chi non conoscesse la differenza tra l'istener e il solo è che il solo permette di ascoltare solo ed esclusivamente la traccia quindi mettendo in solo lui che cosa fa mette in mute anche la cassa mettendo in mute anche la cassa se io avvio solo la traccia in solo scusate il giro di parole la cassa essendo in mute non manda il segnale al compressore quindi dal side chain del compressore invece andando ad utilizzare il listener che cosa fa praticamente mantiene soltanto in evidenza la traccia selezionata quindi mantiene tutto quello che è il routing audio e fa ad ascoltare soltanto la traccia in listener ok giusto così una piccola chicca tutorial dei tutorial ok perfetto quindi andiamo ad renderizzare questa traccia quindi andiamo a fare modifica render in place impostazione di renderizzazione allora non andiamo a fare un tutorial sulle impostazioni di renderizzazione ci soffermiamo soltanto sul primo e sul secondo opzione allora la prima opzione permette di andare a renderizzare l'instrumento quindi nel nostro caso il silent mantenendo inalterato le configurazioni di origine sostanzialmente non fa altro che copiare tutte le impostazioni del canale di origine e le riversa in quelle di destinazione andiamo a fare questa prova ok quindi ha creato effettivamente quello che è il nostro silent adesso mettiamo in mute la traccia di origine andiamo a vedere quella di destinazione ovvero quella che ha renderizzato ed effettivamente abbiamo tutte le impostazioni di origine ok andiamo ad ass a sentirlo però andiamo a sentirlo insieme come ben notate come ben notate in questo caso però non sta funzionando quello che è il l'effetto pumping quindi il la cassa che entra nel compressore andiamo anche a vederlo vedete non entra nulla questo però in realtà io non lo vedo un errore nella fase di rendering perché perché effettivamente le impostazioni del canale sono corrette tutto ciò che ho configurato qua è corretto il side chain è attivo che cosa non abbiamo non abbiamo la mandata della cassa a la traccia renderizzata questo perché perché in realtà è un'impostazione non della 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 traccia step quindi non è un impostazione della traccia che noi volevamo renderizzare è un'impostazione della cassa la cassa che in realtà nelle sue impostazioni ha l'invio il send quindi al compressore che vogliamo schiacciare quindi in questo caso basta semplicemente andare a aggiungere la cassa ok adesso noi lo vediamo qua perché Cubase ci permette di utilizzare questa scorciatoia ok quindi dal side chain andare a selezionare la traccia ma in realtà quello che ha fatto è semplicemente e andare ad aggiungere un altro send alla cassa di origine a quella renderizzata ok quindi l'impostazione era della cassa è corretto che non ci sia però adesso andiamo a sentirla fatto questo però a noi non basta nel senso che innanzitutto andiamo ad eliminare la traccia quindi rimuovi traccia selezionata quindi dicevamo quello che vogliamo fare noi però non basta io quello che voglio fare è andare a renderizzare questa traccia comprensivo anche di tutto quello che ho toccato quindi compressore il phaser e il channel strip e l'equalizzatore ok ok quindi per fare questo da manuale che cosa faccio vado in modifica rendering place impostazioni di renderizzazione seleziono la seconda opzione dovrebbe andare a renderizzare tutte le impostazioni degli effetti in insert e l'equalizzatore del channel strip come appunto c'è scritto nel tooltip che è venuto fuori quindi andiamo a fare questo tipo di renderizzazione perfetto andiamo a sentirlo quindi mettiamo in mute quella originale e anche qua ci ritroviamo il problema di prima solo che in questo caso non è risolvibile facilmente perché non è risolvibile perché se andiamo ad aprire adesso la configurazione del canale lui effettivamente ha renderizzato tutto sul file quindi l'equalizzatore è già stato renderizzato il channel strip pure e l'equalizzatore pure cioè dovrei andare a riprendermi l'equalizzatore scusate il compressore della cassa copiarla qui e metterlo in side chain però non era quello che io volevo io volevo già il file con l'effetto on pumping ok questo anche perché magari ho problemi di risorse e quindi vorrei avere soltanto ed esclusivamente quel file così che possa la dove eseguire una traccia pulita o per avere la certezza che l'operazione che vado a fare sia identica all'origine allora questo è successo perché? perché quando si va a renderizzare come da manuale Cubase come avrete notato va a mettere in solo la traccia da renderizzare questo l'abbiamo visto prima se io metto in mute un attimo quella che abbiamo renderizzato se io metto in solo la traccia da renderizzare la cassa essendo in mute non manda niente la cassa non effettua nessuna mandata allo step ecco perché il render in place non funziona in realtà esiste un altro metodo per far sì che nella traccia venga presa in considerazione anche il side chain andiamo a vederlo eliminiamo quella che abbiamo appena ricreato quindi rimuovi tracce selezionate adesso che cosa andiamo a fare vado a mettere in solo la cassa vado a mettere in solo lo step selezionando solo la traccia step vado a effettuare il render in place quindi manteniamo la seconda opzione rendering andiamo ad ascoltare soltanto lei eccola qua questo è quanto quindi anziché andare a utilizzare tutti i vari meccanismi di routing mica routing export copiare la traccia credo che questo sia il sistema più veloce bisogna andare a ricordare qual è che sono le varie tracce in side chain in Cubase però come abbiamo visto prima ci aiuta questa opzione qua al momento in cui io entro nel compressore da qua riesco a vedere tutti i segnali che arrivano al side chain ok bene ragazzi io spero che questo vi sia stato d'aiuto mi piacerebbe sapere anche da voi che modalità utilizzate per effettuare questo tipo di rendering quindi con questa particolarità quindi con una traccia dove all'interno ha in insert un plugin con un side chain se conoscevate questa tecnica magari la conoscevate già io in realtà non vi nascondo che ci ho messo parecchio per poterla scoprire in realtà l'ho anche scoperta un po' per caso quindi volevo condividere con voi quello che io avevo scoperto poi se acqua calda vabbè pazienza vorrà dire che non ho fatto delle ricerche più appurate su internet bene questo video finisce qua se avete dei dubbi se avete delle domande scrivetemi nel canale ecco piccola piccolissima polemica scrivetemi qua non scrivetemi nei messaggi privati scrivetemi qua condividiamo insieme tutte le nostre idee così che anche altre persone che magari leggono i vari commenti possono comunque acquisire nuove nozioni quindi il video termina qua se avete delle domande se avete delle perversità scrivetemi appunto qui nei commenti se vi è piaciuto il video mettete un like se volete seguire futuri tutorial iscrivetevi al canale attivate la campanellina e nient'altro ci vediamo alla prossima ciao va bene 19 minuti va bene forse ce l'abbiamo fatta